Sono 26 nuovi casi di coronavirus accertati in Abruzzo con i test eseguiti nelle ultime ore dopo l'analisi di 1.248 tamponi per una percentuale di poco superiore al 2%. Gli attualmente positivi salgono a quota 366. I guariti sono complessivamente 2.849. Il bilancio delle vittime invece è invariato, cioè 472. Non si registrano decessi dallo scorso 28 luglio. Dei nuovi casi 16 fanno riferimento a pazienti residenti o domiciliati nella provincia dell'Aquila, di cui 7 in Valle Peligna, 4 nel Pescarese, 2 nel Chietino e 2 nel Terramano, mentre per uno sono in corso accertamenti sulla provenienza. Dal totale complessivo è stato sottratto un caso risultato già in carico ad altra regione. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 150.149 test. 34 pazienti più uno rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, uno numero invariato rispetto a ieri in terapia intensiva mentre gli altri 331 più 23 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi 366 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 902 in provincia di Chieti, 1680 in provincia di Pescara, 704 in provincia di Terramo, 31 fuori regione e 4 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.